A Giulianova Pietro Tribuiani il candidato sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali, in programma nel Comune Costiero nel mese di maggio. Con il passare del tempo si sta definendo il numero di candidati alla carica di primo cittadino, anche se ad oggi sembrerebbero esserci solo per il centro-destra tre possibili candidati. Una situazione su cui Tribuiani ha annunciato di essere al lavoro per provare a compattare la coalizione sotto la sua nomina. La mia visione è che in questo momento vedo il centro-destra incerto e disunito. Ho fatto proprio ieri un appello a tutte le forze di centro-destra per coalizzarci e andare uniti alle prossime amministrative perché secondo me è la squadra che vince, non il singolo partito. Per cui rinnovo anche oggi l'appello a ricompattarci, a sederci intorno a un tavolo parlando di programmi piuttosto che andando avanti con i personalismi e persone. Per cui mi auguro che anche in estremi si riesca ad ottenere la maggioranza e compattare tutto il centro-destra. In questi ultimi mesi il Comune di Giulianova ha avuto un commissario. Da qui bisogna assolutamente ripartire per rilanciare una città, soprattutto in vista dell'estate? Assolutamente sì, noi siamo prossimi all'estate quindi le elezioni avranno luogo difficilmente. Noi speriamo di vincerle al primo turno ma se si dovesse andare al ballottaggio quindi si arriverà ad avere il sindaco e la nuova giunta con la stagione già iniziata. Per cui dovremmo da subito mettere in atto delle azioni per presentarci in modo dignitoso alla prossima stagione estiva.